Questo programma è offerto da De Caro Caffè, Caseificio Gioia, Just British, Coviello Vernici, WeWork www.weworkpoint.it Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Ruggito Nero Verde, la trasmissione che vi porta alla scoperta dell'universo Bitonto. Si riparte dallo 0-0 contro la Fidelissandria, un buon pareggio per la formazione guidata dal tandem composto da Vincenzo Santoruvo e Francesco Modesto. Sviscereremo i temi legati proprio alla partita dello stadio Antonucci e ci proietteremo verso quella in programma domenica prossima contro la Palmese. Lo faremo, naturalmente non sarò da solo, lo farò insieme ai miei compagni di viaggio, in primo luogo Gennaro Acampora. Ciao Gennaro, buonasera. E poi con un abitué del Ruggito Nero Verde, il mio compagno di viaggio, nonché in passato spalla di tante telecronache, il direttore del Dabitonto, Mario Sicolo. Ciao Mario. Ciao, un caro saluto a tutti quanti voi amici che siete in studio e a tutti i fedelissimi Nero Verdi che ci ascoltano da ogni angolo dell'orbe terraqueo, multimediale e non solo. Fidelissandria, come detto, un buon pareggio dopo una serie di risultati sicuramente non soddisfacenti e capiremo se si è trattato di un episodio o se può essere il primo punto da cui ripartire per un nuovo campionato. Le immagini e poi ne parliamo. Tra Bitonto e Fidelissandria vince la noia ma vincono anche i cartellini. A latitare è il gioco e lo spettacolo è il pareggio, alla fine accontenta poco entrambe le squadre. Il protagonista diventa suo malgrado il direttore di gare, il signor Morello di Tivoli, non solo per l'espulsione dopo neanche quattro minuti di Strambelli ma anche per molteplici ammunizioni e tante decisioni spesso apparse errate in entrambi i fronti. Le formazioni iniziali, De Candia conferma in blocco la squadra che ha vinto il derby contro il Barletta con l'unica novità, l'Auriola al posto di Padalino, non al meglio della condizione. Sassanelli, Strambelli e Scaringelle, il trio d'attacco nel 3-4-3. Sempre una difesa a tre, quella del duomo desto Santo Ruvo per un bitonto in cui il tandem d'attacco e figliolia tedesco, l'ex Clemente a dettare i tempi di gioco. Inizia subito macchiato dall'espulsione di Strambelli dopo neanche quattro minuti. Una presunta manata su aprile che per il direttore di gara è passibile del rosso diretto. Inutili le proteste andriesi. In una partita decisamente corretta saranno alla fine sette le ammunizioni, sicuramente molte di più delle occasioni costruite da entrambe le formazioni. La Fidelis si riorganizza con un 3-4-2 e Giambuzzi a provarci subito sul calcio di punizione. Diamè non preciso, si salva in due tempi, da segnalare al venticinquesimo una rete siglata con l'aiuto di una mano da parte di Tedesco, poi ammunito. E il fallo laterale battuto da Giambuzzi verso l'area di rigore del bitonto con Diamè che non controlla e la palla finisce sul palo senza che Sassanelli arrivi sul pallone. Proteste ospiti nel finale per un presunto tocco con un braccio in aria di Stasi su cross da destra, tutto regolare per il direttore di gara. Anaclerio alla mezz'ora ci prova di sinistro palla al lato, il primo tempo finisce qui. Prova subito ad alzare il baricentro nella ripresa del bitonto con Loris Palazzo in campo al posto di aprile. La squadra di casa costruisce qualche buona opportunità con Anaclerio prima, tiro dal limite sul fondo, e con la sforbiciata di Tedesco poi palla tra le braccia di Fratti. Nuove proteste, Fidelis al quarto d'ora di gioco con Scaringella cinturato in aria da Fioretti, anche in questo caso tutto regolare per il direttore di gara. Preme il bitonto con lo stesso Fioretti che dall'altro lato si ritrova tu per tu con Fratti, bravo a deviare il tiro dell'esterno di casa. Ancora cambia, decandia, sceglie un 4-4-1 con Cecere a supporto di Bursio ed è proprio il classe 2005 appena entrato a sfiorare il 7 con un tiro dal limite e la palla sul fondo davvero di poco. La Fidelis resta sempre molto corta e Palazzo ha solo con la testa il pallone buono nel finale, attento ancora Fratti. Dall'altro lato invece Bottali con non centrare lo specchio di poco dai 25 metri e anche la parola fine però sul match. 0-0 il risultato finale, un punto che serve poco alla corsa salvezza del bitonto, costretto ancora a giocare a bitetto in un campo decisamente complicato. Un punto che serve poco alla Fidelis per la lotta al primato ma che quantomeno consente di tornare a far punti in trasferta mantenendo la porta inviolata in vista della sfida interna contro il matera per il bitonto. Invece gara verità per la salvezza. Palma Campagna. Bene Mario, un punto lo abbiamo detto che consente alla bitonto di arginare un po' la serie di sconfitte. Un punto che lo abbiamo sentito nel servizio non serve molto alla classifica e numeri alla mano e così. Prima di sentire che cosa ne pensi pregherei Danilo Mingirulli in regia di mandare la grafica con i risultati di questa tredicesima giornata. Vediamo come si delinea la classifica, la luce di questi risultati. Comanda la team Altamura con 29 punti, segue il Casarano a 26, Nardò a 24, Martina a 23. A 21 troviamo il terzetto composto da Fidelisandria, Gelbison e Matera. 20 punti per il Fasano, 19 per Barletta e Rotonda, 17 per la Paganese, 14 per l'Angri, 13 per il Manfredonia, 12 per il Santa Maria Cilento, 10 per la Palmese, 9 per Gravina, Bitonto e Gallipoli. Mario, dunque una possibile lettura da destra, una possibile lettura da sinistra, un punto che fa morale ma un punto che non smuove la classifica. Tu dove ti posizioni? Sicuramente, se teniamo conto che l'Andria è rimasta in inferiorità numerica già dal quarto minuto del primo tempo e non sappiamo se questo è stato un punto guadagnato, due punti persi. Ma questa è la retorica post partita del senno del poi, quindi assolutamente noi non vogliamo cadere in questa trappola. Ma riflettiamo piuttosto su questo, sì, è un punto che dà un'anticchia d'ossigeno al Bitonto che effettivamente ormai era in stato comatoso, quantomeno abbiamo abbandonato l'ultimo posto in classifica se non altro per via della differenza a reti nei confronti del Gallipoli. Quindi già questo è un elemento di novità rispetto alla scorsa settimana. In più dovremmo, come dire, registrare che cosa? Una natura camaleontica che è stata data alla squadra proprio dal nuovo duo Modesto-Santoruvo. E cerco di spiegarmi, durante tutto il match che, come dicevamo prima, è stato sicuramente condizionato dalla decisione ad inizio partita da parte del signore Morello, del direttore di gara, e quindi sicuramente è stato condizionato il match. Però cominciamo a riflettere, quante volte la squadra ha cambiato assetto tattico durante la partita? Perché effettivamente il primo tempo, subito dopo il cartellino rosso per Strambelli, che indubbiamente era il più talentuoso dei 22 sul prato fasulo dell'Antonucci, ebbè ci sono seguiti 20 minuti praticamente di nulla prima di vedere la prima occasione. Nel secondo tempo è stata cambiata la squadra sotto l'aspetto dello schema tattico, fino addirittura ad arrivare verso il tramonto del match ad un 4-2-4 spregiudicato e iperoffensivo, che purtroppo non ha portato gli effetti sperati. Tenuto conto che per l'ennesima volta il Bitonto ha prodotto quantomeno sei palle gol, se non propriamente nitide, ma quantomeno il Bitonto è entrato in area. E addirittura durante il recupero si è presentato davanti al portiere Andresi per ben tre volte. E tra l'altro, come diceva bene mister Francesco Modesto, se Fioretti avesse preso in maniera più sporca, avesse colpito in maniera scentrata il pallone, probabilmente avrebbe fatto gol. Ecco, questi sono gli elementi positivi che per il prossimo match che tra l'altro è contro una direttissima concorrente alla salvezza. Gennaro, una partita che per te ha avuto un sapore particolare, perché tu non sei sceso in campo, ma sei andato in panchina, stai recuperando da problemi fisici. Ecco, dalla panchina quindi a strettissimo contatto con il terreno di gioco, che partita hai visto? Sì, finalmente ho potuto respirare un po' aria da campo dopo un mese abbondante. Ma credo che è comunque un punto, sì, come dicevate voi, sicuramente la nostra squadra ha bisogno dei tre punti per fare un balzo in avanti. Però è comunque un punto che poi, quando tireremo le somme a fine campionato, anche un punto può essere importante. Prima della partita avremmo, non firmato, ma sarebbe stato comunque visto come un pareggio positivo, perché l'Andrea è una squadra importante, seppur ha giocato in dieci quasi tutta la partita, però ha tenuto botta proprio sul piano fisico tutta la partita. Ma credo che, a parte appunto i venti minuti subito dopo l'espulsione, dove siamo stati un po' diciamo frenetici, però credo che per il secondo tempo visto avremmo meritato anche la vittoria, i tre punti. Mario, parlavamo nel corso dell'ultima puntata di una vecchia conoscenza del calcio bitontino come Pasquale De Candia, tecnico della Fidelisandria. Parlavamo dell'attenzione a un suo possibile, tra virgolette, mille virgolette, scherzetto a quella che è stata una squadra che per lui ha rappresentato tanto. Ti chiedo, scherzetto non riuscito, scherzetto riuscito in parte? Secondo me, conoscendo Pasquale che vorrebbe vincerle tutte, è uno scherzetto non riuscito dal suo punto di vista, perché sicuramente, l'abbiamo visto anche negli ultimi minuti del match, quando ha provato anche con la sua squadra a cercare di portarla a casa, l'ha fatta diventare appena appena un po' più offensiva, perché oggettivamente l'inferiorità numerica imponeva delle scelte che portavano l'Andria, quantomeno non dico ad abbottonarsi perché non è stile di Pasquale, ma quando viene ad essere più guardinga per non prendere poi il gol, che avrebbe significato per loro la sconfitta. Quindi, conoscendo Pasquale, avrebbe voluto fare sicuramente punteggio pieno, anche perché poi è rimasta attaccata, quasi per un filo, perché comunque ha pari punti con altre due squadre al treno della zona playoff. Visto che comunque lui già è subentrato in quel di Andria, che sappiamo essere una piazza molto molto esigente, e tu la conosci molto meglio di me, sotto l'aspetto calcistico, io l'ho conosciuto per altre strade, diciamo, avendoci insegnato per un po' di anni, e quindi so effettivamente quanto gli andriesi siano legati alla loro squadra e quante aspettative essi abbiano attaccate appunto alla loro formazione federiciana. Quindi io penso che Pasquale avrebbe voluto far punteggio pieno, poi oggettivamente il destino della gara ha preso altre strade e per lui aver portato via un punto è già stato qualcosa. È talmente vero quello che dici, che lo ricordo spesso, e ce lo diciamo spesso anche a microfoni spenti. Io ricordo che anche nei momenti più difficili della scorsa stagione, quando la Fidelisandria stava retrocedendo in Serie D, non mancava mai il sostegno del pubblico. Poi il pubblico a fine partita magari contestava, fischiava, ma durante la partita il sostegno da parte del pubblico andriesi alla squadra della propria città non mancava mai. Questo l'ho toccato con mano per tutti e cinque gli anni in cui ho avuto il piacere di fare telecronache allo Stadio degli Ulivi. Parlavi prima, Mario, delle dichiarazioni a fine partita di mister Francesco Modesto. Le andiamo a sentire. Sicuramente di rammarico, perché abbiamo chiesto tanto in fase di finalizzazione e anche oggi abbiamo un po' peccato. Scusate il gioco delle parole, ma peccato, è andato in questo modo. Prima della partita sicuramente il punto con la Fidelisandria, anche se giochiamo sempre per vincere, sarebbe stato un punto importante. È arrivato a questo punto con una grande prestazione, direi, però con il rammarico di non aver finalizzato e aver vinto questa partita. Certo, noi aspettiamo Palazzo, lo aspettavamo, è arrivato, è entrato, non potevamo inserirlo dal primo minuto perché le sue condizioni non sono al 100%, però è entrato e ha fatto bene. Si è messo a disposizione della squadra, come dici tu, sia a livello di raccordo tra centrocampo e attacco, come attaccante ha fatto benissimo. Ora lo attendiamo e speriamo che le azioni che noi stiamo creando, i nostri attaccanti, finalizzino. Ci manca quel gradino da salire per aprirci il mondo. E questo è il gol, perché io penso che la nostra squadra appena fa gol farà bene, farà meglio, perché comunque stiamo facendo bene, ma dopo il bene c'è il meglio. E quindi bisogna fare gol, realizzare e noi attendiamo con serenità, perché comunque i ragazzi ci stanno seguendo. Ecco, Gennaro, fare gol, fare bene, fare meglio, sarà importante l'apporto non solo dell'attacco, ma anche di voi centrocampisti? Sì, sì, è un problema diciamo che abbiamo avuto fino adesso, dall'inizio del campionato, però stiamo lavorando e l'importante è che, come diceva il mister, che ci si arrivi, che nelle ultime partite ci stiamo arrivando un po' di più. Abbiamo bisogno solo proprio della finalizzazione, di sbloccarci tutti insieme, perché poi la fase offensiva non è che dipende solo dagli attaccanti, come la fase difensiva non dipende solo dai difensori, è tutta una questione di squadra. Abbiamo bisogno di sbloccarci e anche io sono sicuro che faremo quello step in più. Chiederei a Danilo Mingirulli di rimandare la classifica, perché c'è un aspetto sul quale voglio sollecitarti, Gennaro. Allora, Gravina-Bitonto-Gallipoli 9 punti, Palmese 10 punti, Santa Maria e Cilento 12 punti, Manfredonia 13 punti, Angri 14. Ecco, di queste squadre, di questo gruppo di coda, chiamiamolo così, tu che sei un conoscitore del campionato di Serie D, quale ti ha sorpreso maggiormente, quale avresti pensato di trovare magari più in alto, posto che la risposta è il Bitonto, non vale. Ok, fino all'Angri che mi hai chiesto? Sì. No, credo tra queste sì, solo l'Angri. Però, perché quelle che sono nella parte alta della classifica sono tutte squadre forti, ma come noi, Gravina, Palmese, comunque, sono squadre non costruite per stare in basso alla classifica. Però purtroppo il girone H è il girone lo ripeteremo sempre che è il girone più difficile in Italia proprio perché su 18 squadre sono tutte ben attrezzate come lo siamo noi. Però il campionato è lungo, quindi magari può succedere anche che qualche squadra che in questo momento è nelle parti diciamo medio-alta si può ritrovare poi a combattere nella bassa classifica. Mario, prima parlavamo di questa duplice lettura, ossia un punto che fa morale ma anche un punto che non smuove la classifica. Mi permetto di dire che soprattutto nella prima parte del contributo che abbiamo visto poc'anzi Francesco Modesto si sia messo un po' nella posizione diciamo di giudice di pace, cioè abbia provato a conciliare questi due aspetti. In prospettiva secondo te la riscorsa del Bitonto da dove deve partire? Maggiore capacità di incidere da parte scusa Mario finisco maggiore capacità di incidere da parte del duo alla guida mercato recupero di giocatori che magari in questa fase non stanno dando il contributo che ci si aspettava sto buttando lì delle ipotesi ma naturalmente lascio a te la diciamo ampia facoltà di snocciolarne eventualmente delle altre. Svariate e molteplici sono le chiavi di lettura per un futuro maggiormente rosso da parte del Bitonto e effettivamente sarebbero tutte condivisibili. Francesco non poteva non fare il giudice di pace se non altro perché quello che ho potuto intendere sia Vincenzo sia Francesco hanno cercato di portare maggiore serenità nell'ambito della Rosa del gruppo e penso che tutti quanti i ragazzi si sentano considerati per quello che realmente valgono e tutti quanti alla stessa maniera e quindi già questo è un aspetto positivo che andrebbe incassato e d'altronde anche lo stesso Gennaro che noi abbiamo ospite da un lato ha già fatto notare come anche un punto a fine stagione poi potrà fare la differenza è giunto per il centrocampo di qui a poco se non altro potrebbe persino entrare in campo già domenica prossima e stiamo aspettando tra l'altro anche Nino Navas sempre nello stesso reparto dal momento che sappiamo tutti che quello essendo sempre la zona nevralgica come suol dirsi secondo retorica pallonara e beh lì si decidono le sorti delle partite d'altronde da là possiamo anche capire perché il Bitonto abbia scelto di fare a meno per esempio dei servigi di Federico Pizzutelli non più tardi di una settimana fa perché probabilmente stanno arrivando i rinforzi naturali già interni nella rosa quali possono essere appunto Gennaro Acampo Renino Navas che sicuramente potrebbero cambiare il volto del centrocampo dando maggiore dinamicità da un lato e dall'altro anche maggiore forza e robustezza al reparto quindi questo potrebbe essere per esempio un vantaggio un valore aggiunto che stia arrivando poi tra l'altro giustamente si diceva appena dovesse arrivare la vittoria appena dovesse cominciare come dire a schiudersi i mortai della squadra possono cominciare finalmente le polveri a sparare e quindi finalmente potranno cominciare a segnare gli avanti perché oggettivamente abbiamo visto come figliolia che peraltro ha avuto già credo un problema fisico anche domenica scorsa ma lo stesso Emanuele Tedesco che ha tirato avanti la carretta per tante domeniche all'inizio della stagione ma lo stesso Loris che finalmente abbiamo visto in campo con una certa presenza e costanza domenica scorsa e quindi se riusciranno finalmente a cominciare a smuovere anche il numero delle reti segnate che finora sono davvero misere dall'inizio della stagione e beh tante cose potrebbero cambiare ripeto a cominciare dalla trasferta di domenica prossimo perché indubbiamente si va a Palma Campania che rappresenta diciamo una rivale diretta per la salvezza Ecco Gennaro uno scontro diretto non è un derby però vale probabilmente quello che diceva un famoso allenatore una partita che non si gioca ma si vince Sì andremo andremo lì sicuramente per per vincere ma perché perché ne abbiamo bisogno però sicuramente troveremo un ambiente ostile sarà una battaglia come le come le saranno tutte andiamo in Campania ma sono tutti campi difficili come quelli pugliesi quindi stiamo lavorando per ma sappiamo già che troveremo dovremo fare una partita importante di categoria è una partita intelligente e allora andiamo a vedere come si è comportata la Palmese prossima avversaria del Bitonto vediamo le immagini niente festeggiamenti con il pubblico ma era davvero troppo importante la vittoria il Manfredonia sfata il tabù Miramare abbraccia simbolicamente i propri tifosi e fa un deciso passo avanti in classifica ottavo risultato utile nelle ultime nove uscite numeri non casuali che certificano i progressi della squadra a questi aggiungici il 2 a 1 odierno sulla Palmese arrivato con merito non senza qualche patema nel finale tre nuovi innesti in settimana ma nessuno parte dall'inizio del Manfredonia l'esperto Fissure va in panchina con conate e barbose centrali stesso destino anche per il portiere Borrelli e il centrocampista Esposito attacco con Carbonaro Babai e Calemme non convocato Pozzebonna tra le file campane Pietro Pinto costretta a modificare la catena di destra del suo 3-4-3 niente da fare per Peluso e Silvestro si rivede dal primo minuto carotenuto insieme a puntogliere e potenza male da titolare anche per De Sio a centrocampo avvio soporifero gara molto tattica e occasioni col contagocce la prima scossa arriva al 24esimo su un break dalla destra Carbonaro prende il tempo a Morlando che ingenuamente la atterra Giacobbe dagli 11 metri fa 2 in campionato e 1-0 Manfredonia non ha voglia di tenere in partita gli avversari l'undicisi Pontino altro delizioso lavoro di Carbonaro Taormina si sgancia bene ma spara a salve ancora Carbonaro a seminare il panico al 36esimo fuga a destra a premiare nuovamente Taormina appoggio per Calemme chiuso alla grande da Moccia davvero un bel Manfredonia nel segmento conclusivo di frazione la Palmese è tutto forche sproveduta e trova il pari su situazione da corner Fusco prende il tempo a Carbonaro sul primo palo e fredda l'incolpevole Paduano 1-1 a cavallo tra i due tempi il gol subito non disoriente il Manfredonia anzi all'uscita dagli spogliatoi Calemme maledice la sfortuna centrando il palo dei 20 metri non sarà l'unico di giornata dentro Cesario e Balba per Ernaiz e Babai 4 punte e chiara voglia di vincere Neldonia occhio alla Palmese Viti sbaglia Desio in buca per puntoliere chiuso alla grande da Paduano interessante contropiede Manfredonia al 69 Carbonaro per Cesario Moccia si distende e para ultimo quarto d'ora per cuori forti il Valzer di emozioni inaugurato al 77 Calemme e Crossa Cesario in avvitamento centra il vegno numero 2 gioia rimandata all'85 Balba Crossa da destra Calemme impatta e fa 2-1 di testa l'esultanza della panchina dà voce al solito deserto del Milamare e tutti ad abbracciare Franco 5 in panchina non è tempo per i titoli di coda il minuto 90 è quello fortunato sulla ruota con una palombella di testa centra una clamorosa traversa sul proseguo la stoccata dal limite di Fusco viene questa volta sputata via dal palo alla destra di Paduano tre punti che valgono doppio in uno scontro salvezza ma soprattutto dando la consapevolezza di poter ambire una classifica decisamente migliore nel prossimo turno per i bianco ceresti uscita tuttato e cagevole sul campo del rotondo Mario quali alla luce anche delle immagini che abbiamo appena visto gli aspetti su cui secondo te dovrà lavorare il Bitonto per venire a capo di uno scontro diretto così importante guarda secondo me il Bitonto non dovrebbe rinunciare a fare calcio a fare gioco e diciamo che nella natura nell'identità della formazione nero verde soprattutto da quando l'hanno preso in mano Vincenzo e Francesco non che con Valeriano non fosse così però rispetto allo scorso anno sembrava un po' più timoroso il Bitonto probabilmente per tanti motivi che noi conosciamo magari derivanti anche da una mancanza di serenità all'interno dell'ambiente allora quello che ti voglio dire abbiamo già visto come la Palmese nonostante ricopra una posizione di classifica piuttosto mesta più o meno come la nostra però oggettivamente prova sempre ad attaccare peraltro avendo puntoriere davanti non può fare diversamente l'abbiamo visto che essendo un attaccante di gran vaglia è molto scafato è molto pericoloso al contempo il Bitonto peraltro ultimamente noi a proposito dalla partita di domenica scorsa abbiamo visto un Michele Aprile davvero molto saggio equilibrato accanto a un Murillo Gomez che invece sappiamo essere molto viscerale molto energico e quindi si completano abbastanza bene tutti e due al centro della difesa poi ovviamente anche Lander che viene di solito accostato a loro riesce comunque a dare il suo apporto in maniera positiva dunque io penso che sarà importante fare gioco quindi non rinunciare ad una manovra e probabilmente in questo sarà decisivo anche il nostro ospite qui presente e soprattutto la difesa dovrà stare molto attenta alle giocate sempre molto calide di puntoriere andiamo a vedere il programma completo del prossimo turno anche per vedere un po' il diciamo la sfida tra Palmese e Bitonto in che contesto si inquadra quattordicesima giornata sono in programma Nardo Gellbison Tim Altamura Paganese Angri Fasano Casarano Barletta Fidelisandria Matera Gravina Gallipoli Martina Santa Maria Cilento Palmese Bitonto per l'appunto e Rotonda Malfredonia Gennaro al di là dell'aspettarsi e del confidare in un risultato positivo ecco quale di queste partite a quale di queste partite come dire guardate con particolare attenzione vabbè credo sicuramente l'Angri potrebbe vincendo in casa potrebbe diciamo allungare la zona salvezza poi c'è Gravina Gallipoli che è uno scontro diretto la nostra ovviamente poi Rotonda Manfredonia perché Rotonda è anche una squadra che diciamo sulla carta doveva essere un po' più indietro invece sta facendo benissimo e quindi comunque lo ritengo uno scontro diretto che ci interessa poi ovviamente è inutile si sa che quando ci sono scontri tra squadre tra le prime posizioni e quelle che invece devono combattere con noi ovviamente noi facciamo il tifo per quelle di alta classifica però penso che sia normale come lo faranno le nostre concorrenti quando noi giocheremo con le squadre importanti ecco oltre all'auspicio di squadra di vincere e di riprendere la marcia verso la salvezza c'è magari anche l'auspicio personale tuo di cominciare a mettere minuti nelle gambe e proseguire il tuo pieno recupero fisico sì ma infatti rilasciandoci al discorso di primo comunque noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi nel senso che adesso dobbiamo iniziare a fare punti non dico non guardando la classifica perché quella è sempre lì bisogna tenerlo ad occhio però dobbiamo iniziare a fare punti e poi e poi vedere più in là per quanto riguarda me stesso io già la settimana scorsa diciamo non ero pronto sono andato in panchina il mister mi ha chiesto se me la sentivo sono voluto stare insieme al gruppo questa settimana invece sto lavorando per per stare al 100% e mettermi a disposizione della squadra Mario sposi la mozione a campora chiamiamola così ossia prima il bitonto guarda se stesso poi eventualmente si fanno i calcoli beh io penso che la mozione a campora risponda comunque a grande sagacia essendo egli stesso un corsaro di questo campionato quindi conosce a mena dito tutte le pieghe e i meandri del girone H di serie D assolutamente sì noi dobbiamo pensare a noi stessi ripeto cercando di fare quanti più punti possibili anche perché giustamente lui ricordava come in questa domenica in cui ci saranno degli incroci molto pericolosi tra le squadre periclitanti però oggettivamente tutti quanti stanno lì a fare il tifo per quelle un po' più forti quando incontrano quelle squadre che invece stanno lì a lottare per evitare i bassi fondi e beh sì dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi soprattutto finalmente a schiodarci da quella vittoria che non arriva e che invece sarebbe bene che tornasse quantomeno per dare davvero ossigeno con tre punti finalmente bottino pieno alla classifica deficitaria purtroppo dei neoncelli neroverdi bene con questo auspicio con questa mozione a campora sposata anche da Mario Sicolo si conclude questo appuntamento con il rugito neroverde ringraziamo come sempre WeWork che ci ospita all'interno dei suoi locali ringrazio anche Danilo Mingirulli per il supporto alla parte tecnica ringrazio Gennaro Acampora sperando tutti si è trovato bene in questa nostra chiacchierata benissimo grazie a voi e ringrazio Mario Sicolo direttore del Dabitonto ciao Mario un caro saluto a tutti quanti voi e l'appuntamento con il rugito neroverde per giovedì prossimo parleremo di Palmese Bitonto tireremo le somme e poi ci proietteremo alla partita successiva il rugito neroverde sempre qui su Radio W0 ciao questo programma è stato offerto da De Caro Caffè Caseificio Gioia Jazz British Coviello Vernici WeWork www.weworkpoint.it Grazie a tutti